La mandibola scatto è conseguenza di un'alterazione del percorso che la mandibola, che il condilo compie nell'andare dalla chiusura all'apertura della bocca. Questo percorso è accompagnato da una sinovia, da una qualcosa che gli impedisce di sbattere contro l'altro osso, osso contro l'osso. Il rumore dello scatto è proprio quello, l'osso contro l'osso, quando la vescica per qualche motivo schizza via, non accompagna più questo movimento e l'osso va a sbattere contro l'acetabolo, contro lo spazio in cui si deve muovere all'interno del cranio.